Durante la gravidanza sono consigliati alcuni esami ematochimici e diagnostici che possono garantirci l'effettivo decorso della stessa. Sono delle analisi abbastanza semplici da effettuare e che ci danno un'indicazione sull'effettivo inizio della gravidanza stessa. È consigliabile una prima ecografia per il controllo della gravidanza intorno all'ottava nona settimana che poi verrà ulteriormente affiancata da un'ecografia da effettuare entro la dodicesima settimana che si manifesta come la più importante dell'ecografia da fare. Questo per un motivo soprattutto, non solo per vedere l'effettivo decorso, quindi un decorso regolare della gravidanza, ma anche per dare una datazione precisa che ci darà anche l'indicazione sull'espletamento del parto, sulla data in cui presumibilmente dovrebbe avvenire il parto. Gli esami ematochimici che vengono effettuati durante la gravidanza hanno abitualmente una scadenza mensile, questo in funzione di alcune malattie infettive che vengono ricercate durante questi test del sangue. Primo fra tutti la toxoplasmosi, in secondo piano la rosolia e in terzo piano il citomegalovirus. La negatività da parte della paziente di queste analisi richiede uno stretto controllo, ovviamente mensile, proprio per evitare di scoprire magari tardivamente che c'è stato contatto con uno di questi agenti patogeni. Per talune pazienti e su consiglio medico è possibile effettuare dei test che vanno alla ricerca di alterazioni di carattere genetico e cromosomico. Nell'ultimo periodo, oltre alle indagini che sono più tradizionalmente conosciute, quelle invasive, ossia l'amniocentesi e la villocentesi, abbiamo ora a disposizione l'opportunità di avere delle indagini diagnostiche sul sangue fetale non invasive. Il vantaggio di questo tipo di indagine è ovviamente che viene completamente azzerato il rischio da parte della paziente e quindi della gravidanza in corso, perché si tratta di un normale prelievo di sangue e uno studio attraverso un laboratorio di genetica per il riconoscimento di eventuali patologie che sono frequenti nella popolazione, tra cui la trisomia 21, trisomia 18 e trisomia 13, trisomia 21 più nota come sindrome di Down e attualmente anche la possibilità di ricercare altre alterazioni come mosaicismi o altre alterazioni cromosomiche che è possibile individuare ovviamente anche con le indagini invasive di cui parlavo prima, ossia amniocentesi e villocentesi. È uno studio morfologico del feto effettuato attraverso l'ecografia che permette di riconoscere eventuali malformazioni fetali che non necessariamente siano ascrivibili a problematiche di carattere genetico o cromosomico. Altra indagine importante in funzione delle caratteristiche della gestante della paziente e della familiarità della medesima è effettuare intorno alla ventiquattresima settimana un test particolare che si chiama curva glicemica, sempre basato su un prelievo di sangue che permette al professionista o al ginecologo curante di individuare quelle pazienti che potrebbero essere intolleranti al glucosio o addirittura affette da un diabete gestazionale, che è una patologia che richiede particolare attenzione nella gestione della gravidanza futura perché può portare ad alcune complicazioni sia di carattere fetale che di carattere materno. È un'ecografia che permette al ginecologo di vedere l'effettivo accrescimento del feto, spesso accompagnata con una misurazione dei flussi dell'arteria umbilicale e dell'arteria cerebrale media, che sono due caratteristiche che ci permettono di vedere come viene ridistribuito il sangue a livello del circolo fetale tramite la placenta e, come dicevo, poter riconoscere quegli stati in gravidanza o quei feti in gravidanza che possano avere delle difficoltà nell'accrescimento e ciò comporta una gestione delle ultime settimane della gravidanza completamente diversa rispetto ad una gravidanza fisiologica. La cardiocografia rappresenta un test molto utile sia nella gestione delle ultime settimane di gravidanza per eventualmente notare alterazioni della frequenza cardiaca fetale o la presenza o meno di attività contrattile della gestante, ma soprattutto è di forte aiuto nella gestione del travaglio. Durante il travaglio l'apparecchio viene utilizzato per gli stessi motivi, quindi per la registrazione della frequenza cardiaca fetale o dell'attività contrattile e ci dà un'indicazione anche della progressione del travaglio di parto.